Un momento abbastanza delicato per tanti motivi per la nostra provincia, oggi è una giornata di confronto a confesercenti. Quali sono le richieste che voi fate anche alla regione toscana? Si è parlato di Aghezzo Fiere, ma sono tanti argomenti. Primo, non possiamo chiamarlo successo, ma comunque aspetto positivo, che dopo varie step la Corte Costituzionale ha dato ragione alla regione toscana per quanto riguarda in materia di regolamentazione delle regole, delle leggi che riguardano il commercio. Chiaramente difendendo la piccola e media impresa, queste liberalizzazioni selvagge ci avevano messo, in un certo senso, non solo K.O., ma ci avevano relegato a un ruolo di spettatori impotenti. Quindi adesso, naturalmente, che i territori potranno dire la loro nuovamente in campo appunto del commercio, speriamo che tutti insieme riusciremo a far tesoro di questa situazione, questa nuova situazione. Oggi abbiamo provato ad affrontare nel merito i tanti temi che stanno investendo questo territorio. È una fase particolare per le imprese, è un sistema che nel corso degli ultimi sette anni ha visto in Toscana lasciare sul campo tante aziende ad affrontare tantissime difficoltà, ma che da qualche mese a questa parte sta tentando di reagire e ripartire. Ad Arezzo però si stanno accumulando tanti problemi, tante situazioni che hanno bisogno di metterci la testa, dalla questione della banca, del decreto salvabanche, che sta creando tantissima tensione in un territorio che anche nel rapporto con la banca e con le banche in generale ha fatto un elemento virtuoso. Passando per il sistema fialistico congressuale, passando per la ripresa dei consumi che in questa città c'è, ma non è ancora a livelli che ci aspettavamo. Oggi abbiamo cercato di mettere in fila temi per immaginare strumenti e risposte per un 2016 che possa anche ad Arezzo farci guardare al futuro con un po' più di tranquillità, con la possibilità di mettere in campo i destra, i Giro Nuove, perché è un pezzo di territorio fondamentale per la Toscana che vogliamo sostenere per far ripartire.